Eccaci qua, bella a tutti dal vostro gabbone Oggi vi propongo un nuovo video Sempre su PES naturalmente Perché avevo voglia dei giocacce E devo dire la verità Ho seguito i vostri consigli Ho trovato un allenatore Da un modulo super spregiudicato Io credo che sia il modulo Più spregiudicato che abbia mai Acquistato Allora, andiamo subito per gradi Ve lo faccio vedere immediatamente 3-2-2-3 E' un modulo particolare Andrei subito a gestione squadra Perché ho già inserito i giocatori a mio piacimento Guardate che razza de modulo Questo è un modulo super zemaniano Cioè qua veramente prenderemmo 50 gol Ma ne dobbiamo fare 51 Quindi vi farei vedere subito la formazione Perché è veramente interessante Visto che ci stanno parecchi giocatori Con cui me ce trovo bene Che hanno affinità con sto allenatore Innanzitutto Pisellone Neuer Poi La difesa a tre Deve essere una difesa fatta Dei super grossi Mega Piselloni Quindi non potevo che schiaffati Tiago Silva al centro Che è quello con cui me ce trovo meglio Poi Pichet da una parte Anche se potrebbe sta meglio De qua Stiamo la stessa identica cosa Perché sono tre centrali E poi Sergio Ramos Che purtroppo non c'ha affinità Con sto allenatore Però siccome quello che c'ha più affinità In realtà è Caceres Però non me posso presentare con Caceres Là Ho deciso De schiaffacce Ramos Poi magari Se fa l'assalì In posta Cavolo d'affinità Chi se ne frega Ma con tre difensori De sto tipo Secondo me La difesa Col tutto che è a tre E non a quattro Dovrebbe funzionare A meraviglia Poi A centrocampo Guardate che bello sto modulo A me piace un sacco Allora Ho messo naturalmente Snyder Perché mi piace un sacco È un giocatore tecnico Come voi sapete Io gioco con Un giocatore di centrocampo Che deve essere Particolarmente tecnico Mi deve far lancio lungo Mi deve mannare Dentro l'attaccante Quindi Se non lo mannano i centrocampisti L'attaccante importa Chi ce li manna? Nessuno In questo caso Mi deve mannare pure le ali Verso l'attacco Quindi cioè Praticamente Ho 5 giocatori d'attacco Come potete vedere Dall'altra parte Io me ce trovo Talmente bene Che Non potevo che riproporlo Pure qua Ramirez è troppo forte A me personalmente Mi piace tanto Però La variante Che ho scelto È questa Cioè Arturino Vidal Che comunque È un giocatore Che ce può Veramente da sostanza Sia in difesa Che a centrocampo Cioè All'occorrenza in difesa Perché io lo faccio giocare Sempre a centrocampo Sulle fasce Guardate chi ho scelto Neymar da una parte Che comunque rende 87 da CLS E dall'altra parte Ce l'ho schiaffato Robben Un altro bel pisellone Che Sì Come potete vedere Non è che c'ha tutta Sta grandissima affinità Però Questo è un giocatore Proprio fatto apposta Per giocare sulla fascia Se ce metto lui Ma chi cazzo Ce devo mettere Ho deciso Di metterci Robben C'ha centrocampo di velocità Tra l'altro Quindi E va bene così In attacco Lionel pisellone messi Centro pezzata Nibraimovic Ed è qua Naturalmente Non potevo che riproporre Pure in questo modulo Il mitico Griezmann Che come avrete visto Se seguite I video In cui faccio le partite Mi fa veramente La differenza Quindi Questo secondo me Può essere un modulo Che può far caso mio Poi Purtroppo Sto allenatore C'ha pochi costi totali C'ha soltanto 930 Io non ho occupato I 920 Già Con le riserve migliori Che ho potuto scegliere In base allo spirito De squadra Mi mancano due giocatori La sicuramente Ci vado a mettere Qualche pipetta Da 60 De VGG Giusto per attappare Il buco E fammi fare la partita Mi faccio vedere Chi ci ho messo Come riserva Caceres Poi Come ho fatto già vedere Ramirez Ci ho messo Romulo Perché c'ha al massimo Dell'affinità E' un giocatore Molto d'utile Mi può fare Tutta la fascia destra All'occorrenza Mi gioca pure Da centrocampista centrale Devo dire Che è uno dei pochi Giocatori oro Con cui me ce trovo Veramente bene E quindi Perché non Non metterlo Ho deciso Di schiaffaccelo Anche perché Comunque è in 77 Non mi occupa Tutto sto grande spazio Come costo totale Non poteva mancare Lewandowski Che ormai È la mia riserva Naturale preferita Ibrahimovic Cioè esce Ibra Entra lui Io la differenza Non la noto Perché è forte Veramente lui Pure lui Anche perché C'hanno un gioco Molto molto diverso Cioè Lewandowski È un giocatore D'attacco Che punta E segna Ibraimovic Ibraimovic Fa sia quello Che anche Il trequartista Volendo E mette comunque I giocatori In condizione di segnare Quindi Ce l'ho schiaffato Pure a lui E poi Ho praticamente Rispolverato Il mitico Shakiri Perché c'ha Al massimo Dell'affinità Mi serviva Un giocatore Che non ci avesse Una valutazione Generale Troppo alta Se no Non ce la facevo Con i costi totali A schiaffa Tutti i top player E lui Sinceramente Quando lo facevo Giocare all'epoca CL Mi ce trovavo Veramente bene Quindi Ho deciso Di schiaffaccelo Mo Detto questo Lo spirito De squadra Massimo Che è arrivato È 88 Dovrò farlo Sali in pochetto Però Questo è un modulo Altamente Spregiudicato Ma comunque Vi faccio vedere Un'altra cosa Non è poi Così spregiudicato Come sembrerebbe Perché Se io vado a schema De gioco Eccoci qua Allora Visto da così Sinceramente A me tutto Sto spregiudicato Non mi sembra I tre difensori centrali Sì Stanno belli bassi Volendo Che se può fa Se io faccio Tattica predefinita Offensivo Modifica posizione Se potrebbe portare Vital Un po' più in basso Magari ecco Facendo una cosa De sto tipo E Snyder Magari un po' più in alto Facendo una cosa De sto tipo Ecco Tipo così No Così E così Secondo me Abbassando pure un po' Le ali Magari allargandole Pure un pochetto Comunque L'equilibrio Dovrebbe stacce Vedi Se io faccio così E faccio così Praticamente Ti faccio giocare CL Ma a centro campo Ecco Ce dovrebbe Stare Così Come vediamo Un po' troppa discrepanza Dal centro campo All'attacco Perché la tre quarti La fascia della tre quarti È vuota Però Volendo Uno fa una cosa De sto tipo Ecco c'è qua E il problema È bello Che risolto Secondo me Una formazione De sto tipo Magari Snyder Se può fare Proprio una bella cosa Se può mettere Proprio qua Se può mettere qua E qua Vidal Così Che ne dite Secondo me È una bella formazione Ecco Aspetta Lo sistemiamo Un po' meglio Ecco Mettemoli tutti in riga Come i sordatini Ecco qua Tiè Perfetto Guardate un po' Che formazioncina Secondo me Fatta così Con Vidal Che sì È vero Qua Risulta centrocampista centrale Ma comunque Il centrocampista centrale Andrà comunque A far da schermo Davanti alla difesa Tre difensori Di quel calibro Con Vidal Davanti alla difesa Snyder che agisce Praticamente Sulla tre quarti Da centrocampista centrale Neymar e Robben Pronti a innesca E ad essere innescati Perché comunque Cioè Loro partono da CL Dovrebbero in realtà Innesca Messi Griezmann E Ibrahimovic Però con la velocità E il tipo di gioco Che hanno Potrebbero a loro volta Innesca Una bella situazione Di gioco Quindi Secondo me Con sta formazione Fatta così Con sta specie Di rombo A centrocampo Un po' stretto Un po' largo Mi sembra più Un aquilone Che il rombo E quei tre attaccanti Là davanti Altro che Zeman Qua Se potrebbero creare Veramente Delle situazioni Interessanti Quindi Sicuramente Mi ce farò Qualche partita Consigliatemi voi Qualche giocatore Che volete Magari che Inserisco Che posso Mette Anzi Ne approfitto Vi faccio pure Vedere L'affinità Dei giocatori Allora Quindi Se io vado qua Vado a rosa squadra Poi premo L2 Sto sempre su PS4 Faccio quadrato Faccio Una filtrazione De valutazione Generale No valutazione Generale No scusate Dove sta Ecco qua Capacità tattica Per allenamento Ci fa vedere Tutti i giocatori Che hanno più capacità Tattica Con sto allenatore Pirlo Sinceramente L'ho risparmiato Ma se potrebbe Schiaffa tranquillamente Al posto di Snyder Anche se Snyder c'ha 91 De tecnica Pirlo c'ha 82 Mi piace di più Che vedevo di Ecco qua C'ha 91 Mi piace di più Ok Poi ce stanno Volendo Marchisio Rakitic Pedro Busquets Mascherano Remy Storari Vabbè Bravo Depay Buffon Xavi Iniesta Mandzukic Dani Alves Anche se qua Sinceramente Il terzino proprio De ruolo Io non ce lo metterei Perché come CL Preferisco Anna su Robben E su Neymar Un altro giocatore Forte Che potrei Se c'avevo Lo potevo mettere A Bale Ma purtroppo Non ce l'ho C'ho Suarez Con 85 Che potrebbe Essere una valida Alternativa O a Ibrahimović O a Lewandowski Però mi trovo Talmente bene Con loro Questo c'ha ancora 85 Non è poi così elevato Che ho deciso Di puntare Sugli altri Poi a mano a mano Come vedete Va sempre più a scema La capacità tattica Più andiamo giù E più a Namombasso Tipo ecco Già Pogba 82 Un po' Pochetto Jordi Alba Alonso Martinez Danzee Vabbè Guarda che giocatori Che ho pescheato Mamma mia Vabbè E vabbè Quindi Se voi pensate Che devo Inserire qualche giocatore Diverso da quelli Che ho schiaffato Mi raccomando Fatemelo sapere Nei commenti Detto questo Se vi è piaciuto Mettete un bel mi piace Commentate Condividete Iscrivetevi al canale E detto questo Non mi resta che davo Appuntamento Alla prossima puntata Come al solito Video pure domani Se vedemo domani Quindi Bella a tutti Regà Ciao